I segretari generali delle federazioni sindacali di categoria della provincia di Cosenza, Antonio Pisani della Fai Cisle, Giovanni Battista Nicoletti, Flai CGL, Federica Pietramala della Fai Cisle, Sibari Pollino e Antonio De Gregorio chiedono maggior chiarezza rispetto al pagamento degli straordinari per i lavoratori impiegati del servizio di antincendio boschivo nel territorio di Cosenza a seguito dell'incontro che si è svolto in regione facendo eco a quanto richiesto con la forza delle rispettive federazioni regionali. Tra i lavoratori forestali del nostro territorio impegnati in questa fondamentale attività c'è forte preoccupazione e incertezza, ribadiamo che lo straordinario per come sostenuto dalle segretarie regionali è un istituto previsto dal contratto e pertanto deve essere remunerato secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali. Evidenziamo inoltre come nel territorio di Cosenza il numero degli addetti sia ascesso del 30%, ciò implica un minor numero di ore coperte dal servizio stesso con notevoli disagi sul piano della prevenzione e lotta attiva agli incendi. Inoltre, vista la notevole riduzione di personale dovuta al pensionamento di lavoratori e lavoratrici ed in considerazione del fatto che l'importo stabilito da parte della Regione Calabria per il premio per obiettivo rimane invariato, si potrebbe per come richiesto durante l'incontro di ieri aumentare tale premio. E inoltre da considerarsi che il premio per obiettivo, essendo soggetto al raggiungimento di parametri prestabiliti e sottoposto alla valutazione di un ente terzo, potrebbe anche non essere riconosciuto, prefigurando così un doppio danno per il lavoratore. Sarebbe oltremodo non equilibrato parametrare con la stessa cifra economica lavoratori con ore di lavoro straordinario notevolmente diverse. Infine, non è contemplata in nessun istituto contrattuale del settore la possibilità che lo stesso lavoro straordinario venga assorbito alla elargizione del premio per obiettivo. Ci auguriamo pertanto, concludono i sindacalisti, che le ore di lavoro straordinario eventualmente svolte dai lavoratori e dalle lavoratrici all'interno del servizio AIB e del progetto per obiettivo siano applicate secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali.